Buongiorno, sono Jean-Claude Mervigueur, storico del Medioevo. Insieme con un'altra storica, Elisabeth Cruzet Pavon, abbiamo scritto un libro intitolato Decapitate, tre donne nell'Italia del Rinascimento. Di questo libro vorremmo parlare con voi e soprattutto dell'indagine che ci ha portato a scoprire i veri motivi di queste tre decapitazioni a Piazza Garibaldi il martedì 25 agosto alle ore 21.30. Vi aspettiamo, arrivederci.